Che ne dice della Boschi, delle banche di tutta stasera che risiamo dopo l'inchiesta della verità diretta da Maurizio Berpieto, risiamo non da capo a 12 ma insomma almeno da capo a 6? Io sono stato attreviso la settimana scorsa ad incontrare i truffati delle banche venete. In questi mesi ho incontrato i truffati di banche Etruria e di tante altre banche. Queste persone come Maria Elena Boschi, oggi lo scopriamo anche dalle dichiarazioni di Vegas, hanno passato il loro mandato da ministri a girare per le banche o le autoriti a chiedere di salvare la banca del padre e di lasciare sull'astrico i risparmiatori che hanno perso tutto. Allora quando succedono queste cose, uno, questi signori se ne devono andare a casa e noi abbiamo chiesto le dimissioni di Maria Elena Boschi, due, io non farò come loro al governo. Se noi dovessimo andare al governo, se i cittadini ci manderanno al governo di questo paese, noi risarciremo i risparmiatori truffati che hanno perso i risparmi di una vita, le pensioni, i risparmi di quando hanno lavorato che avevano messo da parte per i nipoti. E poi ci occuperemo delle banche. Loro si sono occupati dei banchieri, dei loro genitori e hanno lasciato sull'astrico i risparmiatori. Noi faremo esattamente il contrario. Un consiglio, si scelga un ministro dell'economia particolarmente bravo perché c'ha da dare i soldi ai poveri, rimborsare i cosi, se continuiamo la trammissione poi ci sarà da dare dei soldi per la sanità. Io le do una notizia. Il nostro programma elettorale avrà tutte le coperture economiche, che significa che diremo agli italiani dove andremo a prendere ogni centesimo. Mi permette una battuta? Io credo che dovrò scegliere prima di tutto un ministro dell'economia che non abbia rapporti con banchieri e banche in conflitto di interessi in modo tale che quando se ne occupa pensa al bene comune e alla qualità della vita degli italiani anziché pensare ai fatti suoi. Questo penso che sia il presupposto fondamentale che purtroppo in questi anni non c'è. Chiaro, chiaro. Senta, questa storia dei vitalizi che è tutto bloccato? Prima di tutto posso parlare dei vitalizi e il Movimento 5 Stelle può parlare dei vitalizi perché io ho rinunciato al mio vitalizio come hanno rinunciato i 120 parlamentari del Movimento 5 Stelle. Come avevamo promesso prima delle elezioni, abbiamo fatto dopo le elezioni. Detto questo noi lo vogliamo tagliare a quelli di prima che erano in Parlamento e prendevano il mega vitalizio e quelli di adesso che prendono il vitalizio mascherato. Ci abbiamo provato in tutti i modi, l'abbiamo fatta approvare alla Camera dei Deputati, adesso manca una settimana alla fine di questa legislatura. Tenga presente che la settimana prossima di questa giornata è finita la storia di questo Parlamento, io aggiungo meno male. Anche quest'ultima settimana la passeremo a fare agli altri quello che già abbiamo fatto per noi. Mandarli in pensione con la legge Fornero e non con vitalizi mascherati o privilegi della casta che abbiamo visto in questi anni. Perché è stato praticamente bloccato il Senato, che intendete fare? Noi adesso chiederemo una nuova conferenza dei capigruppo che è il luogo dove si decide cosa si calendarizza in aula al Senato. E cosa chiedete? E chiederemo di portare in aula da lunedì la legge che abolisce vitalizia. È già stata approvata alla Camera, stiamo aspettando solo al Senato che si approvi così com'è, non dobbiamo più rimandarla indietro. Solo che il Governo e devo dire anche parte delle opposizioni non sono particolarmente contente di vedere arrivare questa legge in Parlamento. E questo è il vantaggio che abbiamo noi, perché pure se dovessimo andare al Governo, con serenità taglieremo a tutti quanti gli altri il vitalizio. Perché noi già abbiamo rinunciato a quel privilegio e non abbiamo conflitti di interesse nel mettere mano a quei privilegi. Tagliare i vitalizi significa dire a chi prende una pensione minima in questo Paese puoi credere ancora nelle istituzioni. Perché non c'è un politico che dopo tre anni prende mille euro e tu dopo trent'anni prendi trecento euro di pensione. Senta Di Mario, l'ultima questione. Siamo all'indomani, oggi è il giorno dopo che ci sono state le elezioni. E il Movimento 5 Stelle ha preso metta più voti degli altri. E quindi la chiama il Presidente Mattarella e le dà l'incarico. Lei da chi va per formare il Governo? Perché da soli non credo che prendiate il 50%. Se non dovessimo raggiungere il 40% dei consensi, se non dovessimo avere i numeri, perché il 40% è un po' la soglia per riuscire a raggiungere i numeri e governare da soli. Io le ricordo che tre settimane fa abbiamo raggiunto il 35% in Sicilia da soli. Ma mettiamo che lo prendiate, d'accordo? Che non lo prendiate. Se non dovessimo prendere il 40%, io le dico... Però lei è quello che ne prende di più di tutti. No, le dico, io dialogherò con tutti. Utilizzeremo le consultazioni che la Costituzione prevede quando si dà un incaricato Presidente del Consiglio per ascoltare tutte le forze politiche e dirò che queste sono le nostre priorità. Bassamento delle tasse alle imprese, pensioni minime più alte, reddito di cittadinanza, abolizione di un po' di leggi che stanno bloccando e assissiando il Paese. E chiederemo a tutti la fiducia per partire con un governo e rimetteremo al centro le priorità degli italiani e non i giochi di poltrone o i giochi di potere interno. Tutti vuol dire tutti? Tutte le forze, come le consultazioni prevedono, ascolterò tutte le forze, tutti i gruppi parlamentari. Se non ce la facesse lei pensa che si rivoti a giugno o pensa a qualche... Non ci sono altre, io le dico questo, non ci sono altre opportunità perché questa legge elettorale era stata progettata per far mettere insieme Berlusconi e Renzi ma non hanno i numeri per fare 51 insieme. Quindi le altre forze politiche o votano la fiducia a noi o perdono la poltrona, tornano a casa e si torna a votare. Staremo a vedere. Poi cosa faranno? Credo proprio che lo so. Staremo a vedere. Io ci ho capito ancora poco. Però magari sono io un po' duro di comprendonio. Non di quel che ha detto lei. Del debito. Di dove sta andando. La questione è che questa legge elettorale è una legge elettorale che è stata fatta per creare questo caos. Chi vota per noi garantisce un po' di stabilità perché noi ci prenderemo la responsabilità di dare un governo a questo paese. Chi vota per queste ammucchiate otterrà lo stesso risultato di quando Mastella fece cadere Prodi o Fini fece cadere Berlusconi. Delle ammucchiate che si sfaldano il giorno dopo le elezioni. La aspetto con Renzi qui in studio. Se lo fanno... Facciamo con tutti i candidati sperando che sia anche Renzi perché non lo so. Spero per lui. Va bene. Quando si saprà. Grazie molte e in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie.